Il sorriso solare di Fabrizio Firmani, storico cameriere del caffè Lorenz di Ascoli, si è spento questa notte alle 22, quando la sua auto, per motivi ancora in corso d'accertamento, è finita fuori dalla carreggiata, impattando contro un muretto. Un incidente banale, ma che ha costato la vita a Fabrizio, 42enne di Folignano. L'uomo, alle 21.45, stava facendo rientro a casa, quando ha perso il controllo della sua vettura, una Fiat Multipla, ed è finito contro un muretto di recinzione in via dell'Aspo. Terribile l'impatto. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno trasferito il 42enne all'ospedale Mazzoni, dove Fabrizio è deceduto durante la notte a seguito delle gravi lesioni riportate nell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Ascoli, che hanno effettuato i rilievi volti ad accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale. La salma è stata messa a disposizione del sostituto procuratore Carmine Pirozzoli. Una città e un bar in lutto questa mattina per la scomparsa di Firmani, che era conosciuto come storico cameriere del caffè più frequentato dai giovani ascolani. Era vitale ed efficiente e tutti, almeno una volta, avranno avuto a che fare con la sua contagiosa simpatia e con la sua verve, mentre computerino alla mano registrava le ordinazioni. Nessun altro mezzo è stato coinvolto, ipotesi che fa pensare ad una distrazione di Firmani. Ma di più si potrà sapere solo dopo gli accertamenti svolti dalla polizia stradale.